So che siamo un po' di tempi tirati, però voglio dirlo lo stesso. C'è una persona molto importante, molto saggia, che un giorno disse una frase molto bella, che dice, sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Ecco, io se chiudo gli occhi, il cambiamento che voglio vedere nel mondo è basta violenza, basta guerre, basta parlare con le armi, quando si può parlare con le parole, con l'amore. E questo pezzo è dedicato a Gandhi e a tutti quelli che come lui diciamo che si fanno in quattro per la non violenza. Grazie. 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 Grazie.